Oh, lancia il pallone in avanti, palla più pronta per Locatelli, supera il diretto avversario, va a cercare il secondo palo. Now, it's Cristiano Ronaldo, for the top of the day, and it's pulled back, it's Cristiano Ronaldo! Now, it's Cristiano Ronaldo, for the top of the day, and it's pulled back, it's Cristiano Ronaldo! No! 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 Grazie a tutti.